Ciao ragazze e ragazze, benvenuti e bentrati in questo nuovissimo video Oggi sono qui con un video particolarissimo perché non mi si vede la faccia però si vede il corpo Perché sì, il 2 marzo è il mio complanno, visto che questo video uscirà il 3 Io ho già festeggiato, ho già fatto la festa e quindi mi sono arrivati i regali Io volevo farvi vedere i regali che mi sono arrivati Allora, partendo da quello che mi è arrivato alla mia amica C'era questo, che sono dei marshmallow, come potete vedere, fatto a fiore Insieme a Questa mia amica mi ha anche, non ho ancora aperto, ve lo farò vedere nel video Mi ha anche regalato, se vedrai, di Klairs, questa pochette Questo braccioletto è Glow in the Dark E questo è bellissimo e carinissimo Si apre così Non mi ricordo a che parte si apre Così, guardate che bello Io ce l'avevo già un tipo che era azzurro però quindi Adesso che è rosa Il punto è che non mi ricordo se, perché io ho tirato con tutta la faccia C'è una pochette, in questa pochette E non mi ricordo se c'era solo, guardate che bello Però è veramente, veramente bellissima È molto comoda anche perché è piccola Questa mia amica sempre, però l'ha regalato a tutte Ha regalato questo braccioletto, non me lo metto a fuoco C'è scritto Friends Ed è veramente bellissimo perché siamo tutte amiche Quindi non ce lo toglieremo mai Quindi tutti i video che farò Se si vederanno le mani, vedrete questo Adesso ti do giù la manica Perché ho le maniche lunghe Poi, passando ad un'altra amica, mi ha fatto bene Questo biglietto Che mi copro il suo nome Tanti auguri, ti voglio tanto bene E sei un'amica davvero speciale L'ha fatto lei ovviamente, quindi bene E mi ha regalato, primo Sì, ho le orecchie a unicorno Sempre di Claire's che lo mette a fuoco Perché non mette a fuoco bene Oh vabbè, ok, avete capito Poi E' regalato Sì, questo qui è un kit per fare questi braccioletti qua Adesso vi farò vedere Con No, non posso scelerare Ci sono in pratica Ti regala questi braccioletti qua vuoti Perché sono vuoti Alcun tipo Questo qua però l'ha già fatto Insieme a Questi Cubettini fatti così Con delle lettere Anche argento E basta, tipo questo qui C'è un argento Quindi le vici sono colorati Vedete, è argento E mi ha regalato questo kit E poi è regalato anche questo kit qui Sì, sì, molte robe per creare Quindi porterà più presto un video Dove ho usato queste robe Che vedete sono sti vidi Di vari colori Dove puoi fare con lana e braccioletti Con le perline fatte con queste forme qua Tipo, con queste forme strane Ok Tornando ad un'altra mia amica Un generale 4 Mi ha regalato Scusate, dove è la casa? La scatola Ho perso, ecco Questo profumo Che si chiama Il spianco Come vedete Non voglio fare pubblicità Però è veramente buono Super buono Mi piace veramente Veramente tantissimo Passando all'ultima amica Perché poi Come vedete Ci sono anche altre ragazze Di altre persone Passando all'ultima amica Regalato Questa è sempre con la nina Sempre di Klairs Però È una boccettina Con dentro un unicono Non riesco a mettere bene a fuoco Che è che mette a fuoco Per me Questo qui Vedatelo Vedete Vedete È una collanina Ad unicor Con questa boccettina Unicorno Poi Regalato anche Questa bellissima Pochette Ad unicorno Vedete 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 Tutti i regali Che mi ha fatto Quell'altra mia amica Con questo Il biglietto Poi Questa qui Mi ha regalato Anche un Salvatanai Che vi ho fatto Sfogliato Vedete Che bello Con tutti i stili Leoncini Come sentite Ci sono i soldi Sono 20 centesimi Più Che si porta A sforzare E se ne dai Il Salvatanai Senza soldi Porta a sforzare E anche E anche lei Mi ha fatto Dicire Buon compleanno Ti auguro Tanti auguri E spero Che ti piacerà La festa di oggi E anche il regalo Dopo aver visto Tutti questi regali Di tutte le mie amiche E' arrivato Di farmi vedere I regali A parte La parte La parte di mio nonno Mi ha regalato Questa fotocamera Piccolina Insieme Alla sua custodia Che io Ho scelto Per il regalo Sì La scelta rosa Perché Per me Sarà molto utile Quando vogliono Registrare Perché adesso È scarica Quindi non potevo Usare questa La parte Di mio padre E di mia madre Le converse Queste converse Qua bellissime Super rosse Super accese Poi da parte Di mio padre E di mia madre Anche il flauto Che proprio Mi servirà per scuola Quindi non è proprio Un regalo Però È tipo un regalo Di compleanno Che però Sarebbe per scuola A scuola Quindi Non so se questa Corsetta È tutta intera Mi ha bisogno Una idea Perché Questo qua Non l'ho mandato Apposta Per fare Bello E Queste Mi hanno fatto Il regalo Sono venute Alle 5 A casa mia E poi Sono andata Anche a dormire Appena Ho iniziato A registrare Questo video Qui Hanno Già Andati Via Perché Lui Sono andati Via Sono andati In casa Ho preso Queste cosette Mi sono Mettate A posto Ho iniziato A registrare Il video Quindi Poi Voi vi chiederete Perché non hai regali dei maschi Se sono le tue amiche Perché In pratica Io ho invitato solo Le mie amiche A fare il pigiama A parte Su whatsapp Ho i numeri Di tre I miei amici Di quali Tutti e tre Mi hanno fatto Gli auguri Quindi C'è il mio fidanzato E altri due Mi hanno fatto Gli auguri Quindi Li ringrazio Tanti Se siete Guardano questo video Vedete Hanno capito Che sono loro Perché Io su whatsapp Non ho tanti Contatti Quindi Grazie Tornando a noi Se il video di oggi vi è piaciuto Lasciate un bel pollice In su Iscrivetevi al canale Perché vi invitano Una famiglia Grandissima Mettete like A tutti I video Attivate la campanella Per non perdervi Nessun video Un buon chine Tutti Ciao